Subito un campo caldo per il Pescara, un campo tosto per Antonio Masia, la Riechi di Salerno. Domani inizio ore 18, Salernitana Pescara, arbitro Rapuano di Rimini. Uno stadio che però evoca ricordi recenti, soprattutto dolcissimi. Ci riferiamo alla vittoria saltante dello scorso mese di dicembre in rimonta 4-2 e la verdetto finale con una tripletta di Mancuso, passato in estate all'Empoli via Juve. Per quanto riguarda le ultime della squadra non ci saranno sicuramente Vitturini, Crecco, entrambi infortunati. Scognamiglio causa squalifica, c'è il recupero di Bettella. Anche Campagnaro che fino a ieri ha svolto una seduta differenziata per i soliti problemi muscolari ci sarà domani in campo. Dunque Bettella-Campagnaro coppia di centrali in attacco invece sicuramente Brunori esterno a sinistra con Galano a destra. Entrambi a supporto di Tuminello. Qualche dubbio a centrocampo in realtà per l'esordiente Luciano Zauri, Ventola o Memusciai. Saranno convocati sia Maniero che l'ultimo arrivato Castanos che torna a distanza di oltre due anni a vestire la Biancazzurro nella prima esperienza appena 19enne, soltanto 8 presenze, il campionato di Serie A da gennaio a giugno 2017. Sentiamo Zauri. Abbiamo visto le due partite di Coppa Italia, quella del Catanzaro e quella che hanno perso a Lecce che ha risultato in parte bugiardo frutto di alcune disattenzioni della Sernitana, in alcune situazioni di errori magari individuali però ho visto una squadra molto ben organizzata che sa giocare, è una squadra molto ordinata, in fase non possesso, molto compatta e quando riparta hai giocatori che possono fare male. Scuignamiglio sicuramente, visto la sua squalifica e Vitturini per infortuni, quindi ovviamente in difesa cambierà qualcosa e qualche dubbio ce l'ho, a mese a campo c'è qualche dubbio. Castanosse l'ho avuto anche nella presente gestione, quando arrivo in Serie A chiaramente un giocatore totalmente diverso anche fisicamente, oggi troviamo un giocatore che si è costruito anche fisicamente anche in atteggiamento si vede che ha alle spalle due o tre campionati con i grandi. Che cosa è cambiato Castanosse secondo te? Ma insomma intanto nel ruolo, noi l'abbiamo avuto qui come esterno alto, come tre quarti adesso è tutti gli effetti una mezzala, può giocare anche da play all'occorrenza, negli ultimi anni forse ha giocato anche da play quindi sicuramente ha un gran calcio fisicamente uno che tiene botta come si dice per cui è un giocatore duttile. Senti ma quanti esterni di attacco ti servono? Perché ancora non l'ho capito? Tutti quelli possibili, immaginabili, sicuramente uno Non due, uno, almeno uno Sicuramente uno, poi se ne arrivano due ben venga ma insomma la richiesta era quella di avere degli esterni bravi chiaramente Pescara non può comprare quattro esterni fortissimi, tra virgolette quindi chiaramente adesso l'esigenza è di averne uno e poi insomma se lo prendiamo domani possiamo pensare anche di poterne fare due se dovesse essere oltre i giorni di mercato ne faremo uno. Ci sarebbe forse più necessità di fare qualcosa dietro mi riferisco al cuore del reparto arretrato e anche a sinistra perché insomma ai spazi del grosso c'è più nessuno tranne Greco che però infortunato Beh ce lo siamo detti anche altre volte per cui i ruoli sono sempre quelli stiamo cercando di completare dietro e davanti chiaramente che abbiamo Castanos ha dato già un'idea di centro campo è chiaro anche in mezzo al campo dovessimo trovare una soluzione interessante proveremo a farla, perché no? Comunque Brunori per te è un esterno sebbene atipico, cioè continuerà a giocare esterno a terra? Brunori può giocare là e lo sta facendo è chiaro non è un esterno di ruolo come Galano, per farti un esempio però lo può fare, lo sta facendo secondo me bene tanto è vero che gioca, altrimenti giocherebbe un altro è un maestro di calcio, le sue squadre sono facilmente riconoscibili giocano un calcio propositivo è un piacere e un onore affrontare già come primo step questo grande allenatore quindi complimenti, non glieli faccio chiaramente perché la sua carriera parla per lui naturalmente comincia il campionato ma si pensa soprattutto alla mercato chiusura lunedì 2 settembre alle 23 la Pescara caccia di almeno un esterno d'attacco anche due se sarà possibile un centrocampista di struttura un difensore centrale e un laterale mancino di difesa è stato offerto dalla Juve Masciangelo ma non interessa, l'obiettivo è Beruato difficilmente arriverà il Pescara si sta guardando attorno sembra essere molto vicino Matos il brasiliano ex Verona di proprietà dell'Udinese l'Udinese parteciperà all'ingaggio corposo circa 400 mila euro netti a stagione questo per quanto riguarda il mercato ricordiamo domani Salernitana Pescara prima giornata di campionato inizio ore 18